Attenzione, con un look incredibile, marrone style, perché? Cos'è? L'avete visto qualcuno di questi pantaloni o no? Sti pantaloni? No, adesso li inquadrano. Lascia perdere. C'è un po' di tutto sopra. Ma cosa c'è? Ho visto dei cuori, se non sbaglio, se possiamo rinquadrare il meglio. Ecco, infatti, ma cosa hanno questi pantaloni? Sono degli strappi oppure sono invece qualcosa di... Ah, vedi, c'è la lingua dei Rolling Stones, per esempio... Me l'hanno strappato i difensori, io. Già ce l'ho così. Comunque è davvero complimenti. Faccio fare un'intervista doppia col bomber. Oh, che belli, tutti e due, che belli che sono, tutti insieme. Ragazzi, veramente è una coppia meravigliosa oggi, perché ne avete sfornati di gol a più non posso. Non sentiamo, io non sento. Siamo molto contenti, ci capiamo molto bene dentro il campo e niente, si va avanti. Quando farò lui, sono contento io, quando faccio gol io, è contento lui. È bella questa coppia, è bella. Adesso li lasciamo proprio a beneficio di telecamera. Io vi chiedo una cosa, visto che Ciro non è microfonato, mentre Keita sì, quindi poi dopo magari gli passiamo anche un pochino all'auricolare. Vi chiedo questa cosa. Avete affinato in maniera palese l'intesa nelle scorse settimane e si sta avvedendo, perché insomma il vostro lato realizzativo è davvero straordinario. Ma avete lavorato in maniera specifica, vi siete concentrati su questo oppure è una cosa naturale? La prima cosa ti viene da dire. Risponde prima Gay e poi Ciruzzi. Guarda, io con Ciro da quando è appena arrivato nuovo, a dire la verità, ci capivamo molto bene già da subito. Già da subito agli allenamenti, ci capivamo a fare l'1-2, ai movimenti, così, e l'ho capito subito. Io credo che questa è una cosa più che viene naturale, più che strategia o che di parlare viene naturale in campo. E con Ciro, grazie a Dio, è andato bene così subito dall'inizio. Io credo che si sta vedendo durante tutta la stagione e al terreno di gioco, si sta vedendo tutto. No, sì, sono d'accordo. Quello che ha detto è giusto, perché alla fine quando si va in campo e si gioca uno per l'altro, soprattutto quando abbiamo giocato ultimamente a due e si gioca uno per l'altro in velocità, come ci piace fare a noi, è difficile per le difese avversarie. Poi lui ha tante qualità e rende tutto più semplice per me, mi lascia gli spazi e quindi va bene. Se continua così va bene. Allora, un paio di statistiche. Che ci siamo lasciati con la tripletta e poi la doppietta nel derby, sei gol in tre partite. Oggi, quattordicesimo gol in Serie A, praticamente ne manca uno, hai triplicato i cinque gol che hai realizzato come, insomma, nel scorso del miglior marcatore poi in un'annata. Ti chiedo se adesso senti di più la porta, la senti più tua, se questo modulo un pochino è un pochino più, diciamo così, consono le tue caratteristiche, se ti trovi bene adesso con questa situazione qui. Io guarda, adesso mi sento molto bene con il 3-5-2, è una posizione che mi fa stare più vicino alla porta. E niente, quando fai tre gol, due gol, un gol, è normale che prendi fiducia e magari anche un po' di fortuna. E niente, sono molto contento. Con te invece le lezioni matematiche, non so come andavi. 22 più 4, anzi più 3, quanto fa? 25. Eh, più 5? 30. Cifra d'onda? No, no, sono felice. Guarda, quest'anno è andata bene, ringrazio i miei compagni e mi mettono sempre in condizione di fare bene, di stare lì e buttarla dentro. Lavoriamo tutti insieme tutta la settimana per raggiungere questo obiettivo, l'abbiamo fatto da luglio. Ovviamente il merito è mio perché la butto dentro, ma facciamo sempre azioni corali, giochiamo bene insieme, ci divertiamo e facciamo divertire la gente. Questo è quello che conta. Prima dello studio vi chiedo questa cosa, dico ad entrambi, c'è questa possibilità che la finale di Coppa della venga anticipata, la Juventus è un passo alla finale di Champions. Meglio così? Cioè, meglio affrontare adesso la Juve o magari il 2 giugno? Siamo pronti a tutto, sì, la Juve dobbiamo giocare il 17, si gioca il 17, se si deve giocare il 2, si gioca il 2. Noi ci alleniamo e andiamo partita a partita, quello che deve venire viene e basta. Sì, alla fine è vero, è una finale, qualsiasi sia la data la dobbiamo preparare al massimo perché è una partita bella da giocare, da viverla e sarà sicuramente lo stadio pieno e dobbiamo prepararla alla grande, sia se giocheremo il 17 che il 2. Studio? Luigi, se dai l'auricolare a Ciro Immobile perché voglio fare un piccolo esperimento, così ci divertiamo. Ciro, adesso mi riesci a sentire anche tu, volevo fare un piccolo esperimento. Visto che siete in coppia, perché non facciamo che uno dei due intervista l'altro? Chi vuole fare il giornalista dei due? Fra, ha detto se facciamo chi vuole fare il giornalista, io intervisto a te. Tu mi vuoi fare le domande a me o a te? Buonasera a tutti dall'Azio Stai Channel. Non mi chiede niente di persona. Come hai visto la partita di oggi? È stata una partita difficile o come è stato l'approccio della squadra? No, guardi, la partita si è svolta in maniera perfetta, la squadra è entrata in campo colpiglio giusto, una squadra forte come quella della Samp va aggredita e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. È sembrato tutto facile perché l'approccio è stato importante e siamo riusciti a portarla a casa. Crede che la Lazio sia un po' Keita, Ciro, indipendenza? Come la vedi? Sì, no, guardi, sicuramente siamo i due attaccanti, giochiamo lì davanti e la buttiamo dentro grazie a tutto il lavoro sporco che si fa dietro. Quindi siamo felici di quello che fa la squadra, non possiamo fare altro che ringraziare tutti, il mister e tutto il suo staff, tranne il prof Ripper, ovviamente. Ragazzi, vogliamo fare il contrario e restiamo qui tutto il pomeriggio? Ripper, non c'entra nulla. Lascia la casa con gli allievi. D'accordo, d'accordo. Allora, non facciamo il contrario. Grazie a Stai Channel, in diretto, grazie mille. Ciao ragazzi! Grazie a tutti!